Il dottore mi ha detto che ho i piedi cavi, per questo sono anni che cambino mani. E adesso che ho la soluzione tra le mani, mi tolgo un problema dai piedi, ma è bello pensare per due centimetri e non avere i piedi per terra. E rido pensando a te che mi giudichi, un anno senza piedi per terra.